134 ponti, 5 gallerie, 4 cavalcavia e quasi 5 milioni di investimento dedicati a manutenzioni e messa in sicurezza. Sono questi i numeri del progetto Ponti Sicuri presentato oggi dall'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli che avvia un piano di monitoraggio senza precedenti per il triennio 2021-2023. Sotto osservazione le strade della provincia di Pesaro Urbino come la Pecchiese o Bocca Travaria con una lunga lista di ponti e gallerie che sconfina a strade come l'Arceviese, la Val Nerina, la Val di Chienti o la Salaria. Una decisione non più procrastinabile ha annunciato Baldelli riferendosi al fatto che per alcune di queste infrastrutture non era disponibile alcuna relazione sul loro passato stato di conservazione, né in regione che ne è diventata proprietaria nel 2017 né nelle province che ne hanno avute competenza dal 2001 fino alla riforma del Rio. Tradotto, per alcuni di questi ponti e gallerie mancavano indagini ispettive da almeno 20 anni. Altri ancora risultano monitorati nel 2009. Indagini ispettive che ora partiranno in tempi celeri grazie ad una immediata disponibilità di quasi 5 milioni di risorse dedicate.